Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla presentazione del piano triennale delle opere pubbliche del comune di Gela. L'amministrazione guidata dal sindaco Domenico Messinese è decisa a cambiare rotta per quanto riguarda l'approvazione dell'importante documento che dovrebbe approdare in Consiglio Comunale. E' stata presentata questa mattina a Palazzo di Città la programmazione relativa al piano triennale delle opere pubbliche del comune di Gela. L'amministrazione guidata dal primo cittadino Domenico Messinese è decisa a cambiare rotta per quanto riguarda l'approvazione dell'importante documento che dovrebbe approdare in Consiglio Comunale ad inizio triennio e che invece è stata posta fino ad oggi all'attenzione dell'assise civica alla fine del primo anno del triennio. E' prevista una prima tranche di un numero pari a 12 opere pubbliche per un ammontare di 3 milioni e mezzo di euro. Sindaco, il piano triennale delle opere pubbliche prevede delle novità e una tra le novità più importanti è la partecipazione delle categorie. Sì, questo piano che abbiamo presentato è un piano propedeutico che deve seguire necessariamente il bilancio ed è il piano triennale 2015, 2016 e 2017. Però in realtà nella nostra amministrazione c'è una piccola anomalia che il piano triennale è come il bilancio una volta a consuntivo. Quindi noi già ci siamo impegnati proprio nel stilare questo piano che ai primi mesi dell'anno andremo a fare il nuovo piano triennale che sarà proprio dedico, sia il nuovo bilancio che sia alle opere. All'interno di questo piano quindi troveremo per quando era del 2015 quello che è stato già realizzato, quello che stiamo portando a compimento. Ma già dal prossimo incomincieremo ad andare a riprendere tutta una serie di progetti che erano messi da parte, depositati. Quali sono le opere previste in questo piano triennale e come saranno coinvolti i professionisti? Allora i professionisti saranno coinvolti nel prossimo piano triennale che questa amministrazione ha preso l'impegno di realizzare entro il primo trimestre del 2016. Vedremo di stilare un bando o comunque vedremo di concertare una soluzione affinché si possa coinvolgere professionisti giovani e con esperienza per progettare la gela di domani. La nostra attenzione è soprattutto sulle periferie ma non solo. Avremo il completamento della via Recanati, avremo pure il progetto per quanto riguarda il quartiere Albani-Roccella. Dopodiché stiamo dando una forte attenzione al verde. Infatti per la prima volta inseriamo all'interno del piano triennale una manutenzione straordinaria del verde. Abbiamo anche inserito la manutenzione straordinaria per quanto riguarda pure le caditoie. Infatti abbiamo messo anche qui 150.000 euro per la sifonatura delle caditoie in maniera tale da iniziare a eliminare la puzza nauseabonda che esce da queste caditoie. Compiacimento per l'inserimento di gela nel patto per la Sicilia che consente di utilizzare fin da subito i fondi europei e dare seguito ai progetti esecutivi è stato manifestato da Reset 4.0 i consiglieri comunali Luigi Diddio e Francesca Caruso ed il presidente Maria Ferrera auspicando che la giunta comunale non perda troppo tempo nell'indicazione dei progetti esecutivi da proporre al governatore Rosario Crocetta e sperando che le dietribe interne, così come è venuto per l'accordo di programma, non blocchino il dialogo ed il confronto finalizzato alla crescita economica del territorio. Un'opera che non può essere rimandata, si legge in una nota, è il completamento del collettore fognario di Via Venezia e la rete idrica e fognaria delle zone balneari. E adesso occupiamoci della vicenda che interessa alcuni imprenditori che hanno le loro aziende in una strada che costeggia lo stabilimento Eni. Si sentono reclusi in casa e nelle loro aziende, sono gli imprenditori gelesi che hanno le loro ditte su una stradina della pretella industriale e prolungamento della Via Generale Cascino nei pressi dello stabilimento Eni. Da alcuni giorni l'accesso alla strada è off-limits con blocchi di cemento collocati per l'instabilità del piccolo ponte che attraversa il canale che dalla raffineria immette le acque sul fiume. Siamo sequestrati in casa con tutta l'attività, senza avviso e senza preavviso e senza niente. A me mi hanno mandato l'avviso dopo che hanno chiuso il ponte, dopo tre giorni, un telegramma, dicendo il ponte che era non ineggibile. E se le avessero comunicato prima che avrebbero fatto questi lavori, lei cosa avrebbe detto? Si poteva mettere un accordo, si poteva mettere un accordo anche per sopravvivere, perché io vivo con 290 euro al mese. E lei qui ci abita pure? Io durante i giorni abito qua, perché io sono malato, mia moglie è malata pure di depressione. Da quella stradina si accede ad una fabbrica di taracotta, due depositi e ad un'attività di stoccaggio. E così facendo non arriva nessun cliente perché la strada è bloccata? È bloccata tutta, perché se a mia moglie mi arrivava un avviso, io ci potevo dire se poteva uscire il materiale, anche per vendere, perché loro qua hanno un pezzettino di terreno, se mi favorivo qua. Cioè un accordo si poteva fare, invece niente. E lei si è rivolto anche ai carabinieri? Sì, ai carabinieri, mi sono rivolto alla questura, mi sono rivolto due volte. Io per essere onesto con l'importo mi sono sentito male, mia moglie andiamo alla città della città. E se io rimanevo qua, come una volta riapertura dell'importo è soccaduto, dove dovevo uscire io? Le cose che sto prendendo, clienti, famiglie e tutto. La pagina della cronaca giudiziaria deve scontare sette anni di reclusione per violenza sessuale su minore ed evasione. Il 46enne gelese arrestato dalla polizia. Il provvedimento cautelare è stato emesso dalla procura della Repubblica di Gela. Gli episodi risalgono al 2009 e al 2011. Sempre la polizia ha arrestato Vincenzo Lauretta, 23 anni, per violazione delle norme sugli stupefacenti. Deve scontare quasi un anno. 22 mesi ai domiciliari per Angelo Maganucco, 52 anni, per tentato furto aggravato e possesso di Grimaldello. Due giovani, Carmelo Emanuele Giorlando, 22 anni, ed Emilio Massimiliano Liparotti, di 20, sono stati arrestati per furto in concorso in un'abitazione di Niscemi. La convocazione di un incontro in Prevettura per discutere della problematica che riguarda il mancato reimpiego di 28 lavoratori ex Tecra è stata chiesta al Sindaco di Gela, al Presidente del Consiglio Comunale, al Vice Sindaco e all'Assessore Fabrizio Morello, dai consiglieri comunali Giovanni Panebianco, Cristian Malluzzo, Romina Morselli, Giuseppe Ventura, Carmelo Casano, Antonino Biundo e Angela Di Modica. All'incontro è stata chiesta la presenza dei rappresentanti sindacali della Tecra e delle organizzazioni sindacali. Comune di Gela e Fai, associazione anti-racket che danno Giordano insieme nella realizzazione del progetto previsto dal PON Sicurezza per lo sviluppo obiettivo Convergenza 2007-2013. Il Sindaco Domenico Messinese ed il Presidente dell'anti-racket, Renzo Cavonetti, hanno firmato un protocollo d'intesa in cui il Comune concede due piani di Palazzo Cuttilla in corso Vittorio Emanuele in funzione del relativo progetto finanziato. Le parti provvederanno di comune accordo ad organizzare eventi e manifestazioni in cui l'associazione anti-racket promuoverà assieme all'amministrazione comunale l'informazione e la sensibilizzazione che riguardano le attività previste dal progetto con particolare riferimento alla diffusione del consumo critico anti-racket. Una firma importante oggi, una collaborazione con l'associazione anti-racket Giordano che vede rafforzare la legalità nella nostra città. Il consumo critico è un'idea, è un pensiero a cui molti imprenditori e commercianti di Gela già hanno aderito e serve per garantire che sia libero da pizzo chi è che praticamente opera nel nostro territorio. È un progetto importante, è un progetto di legalità che consente finalmente di poter dare sviluppo al nostro territorio e per questo noi abbiamo aderito a questo progetto importante insieme all'associazione anti-racket che fa da sentinella nel nostro territorio per poter migliorare ogni giorno la vivibilità di Gela. I lavori però già sono partiti da una quindicina di giorni, siamo a buon punto e io penso che l'amministrazione comunale assieme al consulente, il dottor Lombardo che è il progettista sicuramente io penso che riusciremo prima della fine dell'anno ad avere di nuovo la nostra sede meglio di prima anzi la nostra sede sarà la seconda sede della FAI quindi ancora più forza darà tutti i nostri imprenditori e i commercianti che hanno già sottoscritto il modello del consumo critico quindi ancora più vigore, ancora più spinta ancora più disponibilità daremo ai nostri imprenditori e commercianti nella cittadina nostra. Pago chi non paga. Il progetto fu finanziato negli anni scorsi grazie alle risorse del programma operativo nazionale Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 che prevedeva la costituzione di una rete per il consumo critico anti-racket la diffusione ed il consolidamento di un circuito di economia fondato sulla legalità e lo sviluppo. A un trascorso al nucleo operativo del reparto territoriale dei Carabinieri di Gela il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Barra Franca si tratta, lo vediamo nella foto, del maresciallo aiutante Pasquale Scordella Il militare ha prestato servizio anche presso la stazione di Riesi Il maresciallo Scordella, 44 anni, sposato e padre di due figli è in possesso della specializzazione di addetto ai rilevi tecnici ed inoltre ha conseguito la laurea in scienze dell'amministrazione presso l'Università degli Studi di Siena I primi 100 giorni di sindacatura 5 Stelle a Gela sotto i riflettori di Agora Ieri sera la nostra trasmissione di approfondimento settimanale ha ospitato il primo cittadino pentastellato Domenico Messinese e con lui tre direttori di testate giornalistiche locali che hanno sviscerato tutti i punti salienti dell'operato della giunta grillina in questa prima fase di esperienza amministrativa alla guida della città del Golfo A porre domande al sindaco messinese sono stati, oltre al conduttore di Agora anche il direttore del Corriere di Gela Rocco Cerro e quindi il direttore del quotidiano di Gela.it nonché corrispondente del giornale di Sicilia Luca Maganucco ed il direttore del TG10 Giuseppe Donchia Ne è venuto fuori lo spaccato reale di quello che è stato in questi primi 100 giorni il bilancio con pregi e difetti del governo cittadino a 5 stelle con qualche stella che obiettivamente brilla di meno e soprattutto con altre che hanno letteralmente spento la luce a questa amministrazione come alcuni consiglieri comunali eletti nella lista del movimento di Beppe Grillo che nei fatti si stanno rivelando i primi e di più accaniti oppositori di questo sindaco o meglio del loro sindaco che a scanso di equivoci è stato scelto da loro, dalla base e a furor di popolo hanno fatto eleggere salvo poi criticarlo ad ogni piesso spinto anche dagli scranni del consiglio comunale roba da fare venire l'invidia al migliore o peggiore se volete PD dannata Eni, Caltacqua, Tecra, Agroverde, Liti Interne stipendi non dimezzati insomma si è parlato se non proprio di tutto ma almeno di molti dei temi che sono attualmente sul tappeto della stanza del sindaco non è mancata poi la solita nota che rappresenta il vero valore aggiunto di Agorà ossia la scheda fuori dal coro curata magistralmente da Giulio Cordaro chi volesse rivedere quest'altra interessante puntata di Agorà potrà farlo attraverso la replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10 oppure sui nostri indirizzi social ossia il sito internet tg10.it o il profilo facebook di Canale 10 Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata su Canale 10 con nuovi ospiti e nuovi argomenti che come sempre riguardano Gela e Digelesi e in edicola il Corriere di Gela settimanale indipendente di autorità politica cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro industrializzazione senza industria un paradosso per Emanuele Antonuzzo che interviene con una ampia analisi sulla situazione economica in città e che trae lo spunto dalla servizio pubblicato nel numero scorso a firma di Sebastiano Abbenante e questo è il titolo di apertura del giornale che sempre in prima pagina pubblica la ricetta veloce per Gela un vademecomo in 5 punti in cui l'ex assessore Fabrizio Nardo indica interventi per rilanciare l'economia e l'occupazione del territorio per la politica Nello Lombardo intervista l'ex sindaco Fasulo il quale parlando del suo partito dice che il PD non ha bisogno di un leader ma di una unità interna nella sua rubrica settimanale politicamente scorretto Giulio Cordaro mette a nudo il malcostume che regna nella politica e nelle istituzioni parla di squallore, ubriagature e pasticci continui un'altra puntata della trenovela sulla riforma delle province Filippo Guzzardi mette a nudo i rischi che potrebbero che potrebbe nascondere lo spostamento della data per reelezione dei presidenti dei liberi consorsi e delle città metropolitane deciso dalla regione all'interno altri servizi di attualità e cultura a firma di Elio Cultrano Nello Lombardo e Marco Di Dio ed infine lo sport con i commenti sui campionati di eccellenza e promozione la pagina degli annunci economici chiude come sempre il giornale in edicola ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità ed eccoci seconda parte del telegiornale iniziativa intraprese dal nuovo consiglio di amministrazione sulle problematiche più urgenti che interessano la zona residenziale e il punto all'ordine del giorno dell'assemblea del comitato di quartiere di Macchitella che si terrà domani alle 10 nei locali del Cine Teatro Antidoto saranno presenti i componenti della giunta municipale e i consiglieri comunali ed è previsto per domani alle 18 nella parrocchia Sant'Antonio a Gela il secondo incontro sulle opere di misericordia relazionerà sul tema dare da bere agli assetati Monsignor Rino Ladelfa docente di ecclesiologia alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia La Cassa Forense oggi nuovi regolamenti dei contributi e dell'assistenza si tratta del tema del convegno promosso dalla Cassa Forense ordine degli avvocati di Gela e comitato pari opportunità degli avvocati appuntamento previsto per mercoledì 18 novembre prossimo alle 15 nell'aula conferenze e avvocato Moscato del Tribunale Uno spettacolo teatrale di carattere sociale con la partecipazione di Salvo La Rosa e Litterio si terrà lunedì prossimo alle 12 nella sala teatro della casa circondariale di Contrada Balate a Gela L'iniziativa è stata progettata con la collaborazione della Proloco di Gela Si terrà sabato 21 novembre alle 20 e 30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela il musical The Wits di Charlie Small che sarà portato in scena dal Centro Giovanile Musica e Arte Cesma Il biglietto di ingresso sarà fornito a chi porterà nella chiesa Regina Pacis o nella piccola Casa della Misericordia dal 15 al 21 novembre la spesa per chi è povero Inaugurazione dell'anno accademico 2015-2016 dell'Uni3 Università delle Treta di Gela si terrà oggi alle 17 e 30 presso l'auditorium del Liceo Classico Eschilo di Gela Saluteranno gli ospiti Pinarces Giordano Presidente Onoraria Unitre Angela Scaglione Attuale Presidente Gioacchino Pellitteri Dirigente del Liceo e il Sindaco Domenico Messinese Musica e Litteria Il Soroptimist Club di Gela in collaborazione con l'Istituto Culturale di Sicilia per la Cinematografia Onlus organizza in occasione dei 120 anni del cinematografo un seminario di storia del film tenuto dal regista Gianni Virgadaul al fine di promuovere la cultura e di offrire alla città un corso che può giovare a chi intende intraprendere o approfondire studi che riguardano il cinema e in genere la comunicazione il corso si svolgerà a Gela dal 23 al 27 novembre dalle 16 e 30 alle 18 e 30 appresti il museo del cinema che sorge nei locali del palazzo Pignatelli E' previsto per domani alle 10 e 30 il primo raduno dei giovani volontari delle federate FIDAS di tutta la Sicilia all'incontro che si trarà presso la sede FIDAS Adas di Gela in Via Italia 13 sarà presente il neopresidente regionale FIDAS Salvo Caruso la riunione fornirà l'occasione per discutere ed affrontare le problematiche riscontrate dai giovani delle varie federate siciliane e per un confronto tra le esperienze di ciascuno di loro al termine del meeting si procederà all'elezione del coordinatore giovanile FIDAS Sicilia e alla presentazione di eventuali idee al direttivo regionale e ora la pagina dello sport il calcio e il punto in questo servizio si gioca a grotte contro la libertà Seragalmuto squadra che occupa la penultima posizione in classifica quota 4 punti e così presentandola la gara di domani del Gela dovrebbe essere una formalità dovrebbe infatti davanti al pubblico di casa gli avversari di Pandolfo e compagni giocheranno la partita della vita per tanti ordini di motivi il primo è che non possono più sbagliare per non sprofondare all'inferno il secondo è che se la vedranno contro il blasone bianco-azzurro e quando si gioca contro il Gela tutti mettono in campo ardore e cattiveria al fine di conseguire il risultato pieno e in questi giorni il tecnico Totoburculeri determinati concetti ha cercato di inculcarli per l'ennesima volta nella testa dei propri giocatori non prendere mai sotto gamba un impegno che sulla carta presenta poche difficoltà in merito alla caratura di chi si affronta proprio chi si affronta come dicevamo farà in modo di impallinare il team giolese dunque rivolto a chi indossa la maglia bianca-azzurra bisogna essere bravi e determinati a non sbagliare anche perché finora fuori dal Vincenzo Presti si è raccolto molto poco in quattro partite tra sconfitte ed una sola vittoria l'ultimo KO è stato subito nel derby col Mussomeli il campo di grotte è in terra battuta ed in settimana l'allenatore giolese si ha provato schemi e trami di gioco con allenamenti specifici in spiaggia al momento attuale il team tanto caro al presidente Angelo Tuccio occupa la quarta posizione in classifica in compagnia di Castelbuono e Mazzara con 16 punti quella di domani è la prima di due trasferte consecutive domenica 22 novembre i giolesi saranno di scena a Campofranco nel campionato di promozione gioca in casa l'altra di Gogela il gruppo allenato da Peppe Misiti riceverà la visita del Comiso troppo netto il divario tra le due compagini i giro rossi che hanno ritrovato verve dopo un periodo di appannamento sono secondi in gradatoria anche se in compagnia di Ragusa e Licata mentre gli blei chiudono la classifica con soli tre punti la vittoria non dovrebbe essere difficile da conseguire riposa invece il macchitella e De Marzian il sopravvissuto il film in programmazione al cineteatro antitoto di Gela sono due gli orari 18.30 e 21.30 e saranno Mariangela D'Abraccio e Blas Rockeray i protagonisti della stagione teatrale all'eschi l'appuntamento previsto per oggi alle 17.15 e alle 21.15 porteranno in scena Cancun e comincia mercoledì 18 novembre la stagione teatrale al cineteatro antitoto di Macchitella la compagnia antitoto si esibirà in a briscola due per due si tratta di due atti di Tiziana Guarneri appuntamento alle 21.30 lo spettacolo è stato proposto anche giovedì 19 novembre sempre alla stessa ora per informazioni c'è anche un recapito telefonico 0933 822707 ripetiamo 0933 822707 con la pagina dedicata al cinema e al teatro noi chiudiamo l'informazione di oggi grazie per averci seguito vi ricordiamo anche una volta che notizie e servizi possono essere visti attraverso il nostro portale tg10.it e vi ricordiamo anche una volta che il televideo di Canale 10 è costantemente aggiornato vi auguriamo un buono fine settimana appuntamento a lunedì a lunedì a lunedì a lunedì a lunedì a lunedì Grazie a tutti.